E ben ritrovati carissimi ascoltatori di Antenna 1, la radio, Sonia Belforte che vi parla per questa rubrica del Un momento per darsi pace in questo giovedì 5 dicembre qui a Torino, abbastanza fresco come dovrebbe essere ovviamente in questo periodo e quando sono già esattamente le ore 18 e 06 minuti. Quindi questa rubrica come sappiamo è dedicata soprattutto a promuovere questo movimento darsi pace creato dal filosofo e poeta Marco Guzzi. Tra l'altro voglio ricordare che domani saremo a Novara, un evento molto interessante che si parlerà proprio della cura, in effetti si chiama Curiamoci, la rivoluzione, la rivolta, ecco che si farà a Novara, esattamente a trecate presso il teatro Silvio Pellico. Quindi ci sarà proprio lui, Marco Guzzi, assieme al dottor Raffaele Fiore. Per oggi abbiamo proprio il piacere, il grande onore di poter ospitare un giovane che tra l'altro è nuovo per darsi pace per Antenna 1, la radio. Andrea Granato che è al telefono. Andrea, buongiorno. Salve a tutti, grazie a Sonia per l'occasione. È un piacere per me perché stiamo parlando di una persona di 21 anni che fa parte proprio del movimento darsi pace e al quarto anno del percorso. E quindi, insomma, a differenza di altri ragazzi che sono arrivati a darsi pace, che probabilmente non stavano molto bene, e quindi cercavano anche una soluzione alle proprie sofferenze dei ragazzi, talvolta andando anche su soluzioni non molto buone. Invece Andrea, no. Andrea si stava praticamente annoiando. Quindi a 15 anni faceva anche parte di questioni politiche, di movimenti, anche a scuola, di fare, insomma, manifestazioni, oppure, insomma, attività politiche proprio, politiche della polise, nel vero senso della parola. Quindi lui cercava proprio tanto questo e non lo trovava. E quindi si è incappato in un video di Marco Guzzi, come tanti altri giovani, ed è arrivato qui. È vero, Andrea? Sì, 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 sì. È proprio questo è stato il mio percorso, che è cominciato molto presto, come dicevi. Certo, sì, a 15 anni proprio. Io non mi ricordo cosa facevo a 15 anni, sicuramente facevo altro. E quindi la prima domanda che ti faccio, carissimo Andrea, e quindi come sei arrivato a darsi pace, però detto da te, cosa ti mancava esattamente e che cosa hai trovato? Sì, allora Sonia e a tutti gli amici ascoltatori che ci stanno seguendo, tu hai parlato di una noia di fondo. Ora, io direi che la noia è una parola giusta per indicare il punto di partenza di una ricerca che, come dire, ci possiede, una ricerca a cui vogliamo dare tutto, no? Qualunque voglia sta sia, come è appunto quella che comunque stiamo portando avanti noi ragazzi. Io non voglio dire di darsi pace nel senso di un movimento, di un'appartenenza identitaria, ma io direi noi ragazzi del ventunesimo secolo. Noi ragazzi del ventunesimo secolo cosa cerchiamo? Io per capire cosa cerchiamo direi da dove cerchiamo. Cioè qual è l'impulso? E tu l'hai detto Sonia, la noia, ma la noia è fame. Cioè la noia è un sentimento di mancanza profonda. Di mancanza profonda per qualcosa che non sappiamo poi neanche definire. Perché io quando avevo 15-16 anni sentivo, avvertivo, ecco, più che pensare in modo, capite, distinto, elaborato, io avvertivo di primo impatto uno scenario desolante intorno a me. Cioè io mi vedevo dentro questa sorta di grande ingranaggio che poi è la società, che è la scuola che ci prepara la società, dove appunto ognuno di noi ha dei ruoli. Io ero uno studente, gli studenti appunto passano una settimana tra la scuola, lo studio, le attività motorie, poi c'è il sabato sera, c'è il divertimento, poi si lavora. E quindi questo ingranaggio, questa grande ruota, no? Non è semplicemente il mondo della scuola, ma che poi si diventa il mondo del lavoro, diventa un destino. Ecco, questa grande ruota in cui siamo tutti dentro, ecco io sentivo che mancava qualcosa. E io direi che il grande, forse la grande, come dire, il grande scatto in avanti avviene nella vita di ogni persona. Per quel poco che può valere la mia testimonianza, che è anche molto breve, dicevi ho 21 anni, quindi sono anche molto giovane. Però io direi che il vero scatto accade quando noi diamo credito a questa voce. Questa voce che ci dice che manca qualcosa e la seguiamo. La seguiamo dove? Non lo so. Però questo è il bello della ricerca, che non sappiamo dove andiamo. E tu sei un grande ricercatore, vuoi proprio sapere, no? E poi tra l'altro guardavi i sessantottini, questi movimenti, avevi un po' questo fuoco che ti bruciava in qualche modo. Sì, sì certo, perché per me il sessantotto con tutte le immagini, la musica, la cultura, no, beat, cioè per me rappresentava quello che la mia generazione, quello che i miei coetanei non erano. Quindi è come un'esperienza da età dell'oro, cioè che poi è un'esperienza un po' archetipica dell'uomo. Io sentivo che c'era un vuoto nel mio presente e diciamo anche un po' ingenuamente come un ragazzo di 15-16 anni proiettavo all'indietro nel passato, negli anni Sessanta, questa sorta di grande efflorescenza che poi c'è stata. C'è un momento anche di grande risveglio collettivo, questo è stato il Sessantotto. Io credo che davanti a noi ce ne saranno altri. Io questo voglio sperare, mi auguro stasera che ci saranno altri Sessantotto anche più radicali di quello che fino adesso c'è stato. Perché lì magari c'era un po' di illusione, un po' di idealismo, invece qui adesso quello che manca più è una radicalità, come dicevi, è sentire proprio quella voce del cuore. Ma che bella questa frizzantezza di questo giovane Andrea Granato. Andrea facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo. Devo fare altre domande che mi incuriosisce proprio. Restate con noi con Andrea Granato del movimento Darsi Pace, a tra poco. Alziamo le vibrazioni. Mentre ascoltavo questa canzone mi incuriosisce sapere se ti piace Bruce Sprintin e ti piaceva questo pezzo. A 21 anni cosa ti piace? Come? A 21 anni cosa piace? Ti è piaciuta questa canzone di Bruce Sprintin? Sì, sì, assolutamente. Io poi sono molto legato, insomma, come dicevo, anche a questa musica, no? Anni 60, 70, 80. Quindi per me, diciamo, mi sento a casa, ecco, quando ho queste parole. Sì, 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 questo canto, questa musica. Quindi non mi preoccupo se sono boomer o non boomer. Cioè, a te piace. No, ovviamente, ma... Bene, allora, non so che cosa succede con il microfono, perché mi fa... Mentre parlo, aspetta un secondo, vediamo se... Ok, forse adesso va meglio. Allora, Andrea, prima stavamo parlando dei disagi, no? Come ti senti in questa società oggi, dopo aver incontrato un po' Darsi Pace, in relazione anche ai tuoi coetanei, perché non deve essere facile. Sei uno studente di filosofia e hai una ricerca, una profondità proprio nel sentire, eccetera. E come ti senti tu tra i tuoi coetanei? Ma io direi che ci sono, almeno dentro di me, due trazioni, due tendenze complementari che devono essere, secondo me, sempre alimentate insieme e mai ricanciate l'una dall'altra. Da una parte, certamente, il grande rischio, lo dico in modo molto brutale, è farsi catturare, cioè farsi catturare in una serie di situazioni, relazioni tossiche, in un contesto dispersivo, nichilista, fondamentalmente edonista, no? Quindi appiattito al piacerucolo. Quindi questo è il primo. Quindi la prima tendenza in me è una tendenza, appunto, a una radicalità di una ricerca, che innanzitutto dico ricerca della verità, ricerca dell'autenticità, ricerca della vita, ricerca della vita, semplicemente, e dare tutto a questa ricerca. Radicalità vuol dire dare tutto, tutto, cioè non si può dare meno di tutto, secondo me. Quindi questo è un primo polo. Dall'altro, però, c'è sicuramente anche, oltre a una tendenza, potremmo dire, eccentrica, no? Di uscire, di individuarsi, ma c'è anche un grande desiderio di entrare in relazione, di entrare in contatto, di creare, come dire, dei bacini di condivisione. Anche questo stiamo un po' tentando di fare con l'indispensabile, entrando nelle università. C'è il desiderio del volto dell'altro. E quindi, ecco, sono due poli, quindi potremmo dire anche la solitudine, la dimensione, diciamo, più dello studio, del ritorno dentro se stessi, ma poi il grande desiderio di guardare il volto dell'altro, di contemplarlo con una profondità che chiaramente è tanto più profonda quanto più uno è solo, in un certo senso. Quanto più si alimenta le sorgenti interiori, tanto più poi all'esterno dà, come dire, faville, fa faville, scintille. Quindi io direi che sono queste le due poli, cioè rispetto, custodia di me stesso, in me stesso e poi una volontà comunque di entrare nel mondo e nelle relazioni e di viverle veramente anche qui fino all'ultimo, spendendosi tutto. Quindi non isolandoci, cioè io continuo ad avere questo, sono io, perché quando parli tu non succede, non so come fare, vabbè. Non isolandosi in un convento, in un monastero, ma diciamo fare relazione con le persone, quindi mischiarsi. Esatto, ma l'isolamento non va assolutizzato, cioè è giusta la solitudine, è giusto comunque il desiderio di trovare un baricentro interiore, però con solitudine non va confusa con l'isolamento, cioè l'isolamento è semmai un'esasperazione neurotica della solitudine. In realtà io mi accorgo che quanto più sto bene dentro me stesso, tanto più ho voglia poi di entrare in relazione con l'altro. Quindi è come se le due cose si alimentano, per questo parlavo di due tendenze che poi sono complementari. Chiaro, ottimo, ottimo. Che è questo che a te, tu sei stato abbastanza fortunato, anche se la parola fortunato è un po' così, un po' banale, però magari altri ragazzi della tua età che non capiscono questo. Ecco, tu hai detto, la cosa importante è sentirla, proprio quella voce che ti sta urlando dentro, no? E andare a vedere fino in fondo che cosa vuole, un po' questo avevi detto prima. Come si fa a non confondersi in base alla risposta che tu dai a qualche cosa che ti manca? Perché purtroppo i giovani, tante volte, ma non soltanto i giovani, cadono in cose non buone, no? Cioè quando sono a disagio. Purtroppo c'è un disagio incredibile in questo tempo. Tu invece sei riuscito a sentire quella voce, a non cadere e andare a cercare proprio una ricerca continua di verità. Sì, è proprio così, è proprio quello che dici. Avevi già un percorso spirituale prima e eri già avvantaggiato, non so. No, ma qui non si tratta chiaramente di vantaggi mondani. Io direi che quello che almeno posso dire nel mio cammino personale ha giocato un ruolo, che non è soltanto mio personale, ha giocato un ruolo di grande, direi quasi occasione salvifica, anche se posso dire paradossale, e spero per molti ascoltatori non si irriteranno, è stato il lockdown del marzo 2020. Perché lì c'è stata una sorta di eremitismo forzato, quindi io sostanzialmente è stato questo, siamo stati rinchiusi in casa per tre mesi, e lì ho iniziato a meditare, lì ho iniziato a scrivere poesie, e lì ho iniziato a contattare questo lago interiore in cui però stavo bene, che io tornavo dentro di me e tornavo nell'integrità. E' stato quel lockdown che mi ha permesso anche di mettere distanza a tutta una serie di relazioni che stavano diventando invivibili e che quindi mi è stato un po' come il trampolino di lancio. Quindi quello che io vorrei testimoniare a livello proprio di vita esistenziale, di cammino personale, che paradossalmente questo momento così catastrofico e oscuro come il Covid-19, questa pandemia, e in realtà nel mio percorso privato, personale, è coinciso con un grande scatto in avanti. Senza il Covid forse non sarei riuscito, perché Marco, per esempio, per tornare alla meditazione, Marco Guzzi, appunto il fondatore di Darsi Pace, ha lanciato per la prima volta la meditazione su Facebook, proprio sulla pressione dei tempi, sulla pressione, diciamo, proprio nel marzo del 19, del 20, quel marzo del 20, lui ha iniziato a fare meditazione su Facebook e io ho iniziato seguendo lui su Facebook che faceva meditazione. Quindi se non ci fosse stato il Covid, Marco non l'avrebbe fatto, io non avrei probabilmente iniziato a meditare. Ora, questo giusto per dire, come molte volte la pressione dei tempi, che non so cosa scatena poi, però che sicuramente porta nell'esistenza una sorta di salto, di scatto, di accelerazione. Quindi io direi che quello che per me è stato un momento decisivo, più che un vantaggio estrinseco, è stato proprio il momento, almeno del primo lockdown, del primo. E quello è sicuramente stato indispensabile per me, se non non per le porsi quello che sono. Bello, bello. Sì, è stata un'opportunità, cioè saper proprio cogliere le opportunità e anche delle cose proprio terribili, come quelle che ci è successo. Bene, bene, sentiamoci ancora un'altra canzone e poi torniamo a parlare con Andrea Granato. Restate con noi. Adelante, adelante. Questa mi viene bene, eh. Francesco Di Gregori, dire adelante, adelante per me è molto semplice. Siamo qua di nuovo su Antenna 1, la radio, alziamo le vibrazioni, è un momento per darsi pace, siamo qui proprio per darci pace, in bellissima compagnia con Andrea Granato. 21 anni, carissimi ascoltatori, studente di filosofia e un grande ricercatore della verità e una grande forza, un grande fuoco. Carissimo Andrea, allora, volevo chiederti, che cos'è, quali sono le tue priorità oggi? Cioè, questo è prioritario per te e che cosa vorresti raggiungere follemente? Allora, Sonia, cara Sonia, io ti sponderi un po' ricalcando quello che ci dicevamo poco fa. penso che per me, come dire, c'è sicuramente un obiettivo che potremmo dire esistenziale, spirituale, e quello è il, come dire, il prius, quello è veramente quello che dobbiamo, io cerco di anteporre a tutto il resto, no? Io credo ci sia una frase di Gesù che però vale anche per chi non è cristiano, o chi magari ha un'altra confessione, lui dice cercate il regno e poi tutto il resto vi sarà dato. Quindi il regno, io direi che è la meta, il regno già qui sulla Terra, non il regno del che è solo dopo la morte che dobbiamo aspettare, il regno della verità, io direi dell'integrità, di appunto lasciare emergere il volto di noi stessi, il volto reale che siamo e che purtroppo è, come diceva Etti, il esum sepolto sotto detriti, sottocumuli e cumuli di detriti. Quindi io direi che innanzitutto il primo obiettivo è sempre lo stesso dall'inizio ed è questo volto che vogliamo, in cui ci vogliamo rifinire in un certo senso, è una plastica facciale, come molti anni dice Marco, no? Quindi scoprire questo volto, scoprire questa verità, che è poi la cosa più intima, che non è la cosa che sta fuori, è la cosa più intima, più interiore, che ci appartiene in modo più viscerale, quindi è la cosa anche più prossima, più vicina. E poi, quindi questo come, chiaramente è un livello, è il livello più radicale, e poi chiaramente, come dicevo anche prima, nel caso delle relazioni, dei miei coetanei, cioè lo sforzo, il desiderio, è anche poi di inserire questa ricerca nei contesti in cui vivo, dal momento che comunque, cioè non è che uno si può ritirare in monastero, o almeno lo potrebbe fare, però qui si aprirebbe tutto un altro discorso che non apro, però diciamo che la tendenza è anche di come dire, riuscire a trovarsi un posto nel mondo, riuscire a inserirsi, riuscire a inserirsi, riuscire come dire, a conciliare alla fine, il cielo e la terra fondamentalmente, quindi questa aspirazione abissale che ci abita, e poi anche i contesti, la vita di tutti i giorni, i professori, non so, l'università, le varie contingenze, le varie, che molte volte sono anche situazioni molto meschine, eccetera, eccetera, quindi riuscire a sopportare questa dualità, io direi che questo è quello che dobbiamo fare poi come umani, no? Grande sfida, grande sfida del regno umano proprio, in questi tempi. Bene, adesso facciamo ancora un'altra pausa, adesso c'è la viabilità qui in Piemonte, così sai come sono le strade qui in Piemonte, e poi torniamo con un momento per darsi pace con Andrea Granato, restate con noi. Alziamo le vibrazioni Certamente siamo qui, alziamo le vibrazioni su Antenna 1, la radio di questo giovedì 5 dicembre, quando sono già le 18 e 35 minuti, il tempo passa volando, diciamo sempre, e quindi siamo qui in bellissima compagnia al telefono con Andrea Granato, giovane, esponente del movimento Darsi Pace e anche del movimento L'Indispensabile, che è questo movimento che è nato un po' per creare un po' una questione più tra i giovani del Darsi Pace. Come ti senti lì all'Indispensabile, Andrea? Beh, diciamo che l'Indispensabile è una casa, è uno spazio di relazioni, è una risposta innanzitutto a quella ricerca di cui parlavo all'inizio, di questo impulso, di questa fame che ci muove e già il fatto di poter condividere questa ricerca che è anche un po' folle e che da soli come dire non riusciremo a portare avanti perché potremo sbandare, possiamo appunto cadere nelle trappole dell'isolamento di cui parlavamo, anche delle trappole che poi alimentano vari tipi di superbia, vari tipi di erudizione, quindi lo spazio della relazione è quello che offre l'Indispensabile in cui vedo anche conoscenze, persone che vanno e bevono che molti giovani anche si sentono come dire attratti da questa possibilità cioè di poter che poi alla fine è una cosa molto semplice però che noi non siamo assolutamente in grado di fare come soggetti naturali diciamo così e la cosa molto semplice cos'è? Che anche alla semplicità del miracolo è poterci relazionare l'uno con l'altro a partire da una profondità maggiore maggiore di quella alla quale siamo abituati a vivere no? A viverci noi ci incontriamo e ci relazioniamo sempre a partire da dei tipi di strutture psichiche comportamentali emotive che sono per lo più distorte quindi alla fine incontriamo l'altro per fuggire da noi stessi la cosa bella è che è uno scatenamento di energia non è bella è bella nel senso di un'esplosione di energie che noi viviamo e che anche magari in una tavolata in una pizza in qualsiasi incontro è come proprio questa relazione cioè diciamo questa relazione ci infiamma perché è appunto nutrita da una ricerca comune da un fondo comune da un'aspirazione da una tendenza da una presenza direi comune comune che ci attraversa è che noi però sappiamo molto più grande appunto delle nostre singole individualità e nella quale ci sentiamo raccolti e questa è un'esperienza che io non so quanto sono riuscito a tradurre in parole perché è un'esperienza non si può più si può testimoniare ma non si può più di tanto ricreare cioè si deve vivere però direi che questa esperienza è la risposta la risposta già diciamo già anticipata della ricerca cioè alla fine io voglio dire questa cosa mi spingo un po' in là ultimamente nelle letture del giorno abbiamo letto un testo di Isaia dove c'è questa immagine del banchetto ora uno non si pensa del banchetto escatologico ora uno non ci pensa mai perché subito si fa rappresentazioni Dio le cose ma alla fine quello che descrive Isaia come telos come compimento ultimo delle nostre aspirazioni è una tavolata è una tavolata cioè è uno spazio di relazione ci sentiamo a tavola insieme e mangiamo e parliamo e ci apriamo e spezziamo il pane no? appunto la dimensione della cena che è una dimensione che è sacrale io direi che questo io direi che questo è indispensabile l'indispensabile è la cena se la intendiamo in un senso simbolico che però è anche molto reale perché noi molte volte sia diciamo dopo gli incontri sia anche senza dico gli incontri di darsi pace sia anche diciamo per conto nostro noi ci ritroviamo non so ci mangiamo una pizza e facciamo cose che sono normali ci sono molto ordinarie a sentirle in cui però in questo ordinario c'è nella tavolata che è qualcosa appunto di forse addirittura banale però si nasconde lo straordinario che chiaramente si può solo vivere cioè non è che se ne può parlare di tanto quindi io direi questo una tavolata mi viene da dirlo proprio con Isaia un banchetto un banchetto sì ma prima hai detto una cosa importantissima cioè ne hai dette tante però una che che mi è rimasta che è l'esperienza secondo me è indispensabile oggi fare esperienza perché stiamo lì pieni di informazioni no? che arrivano da tutte le parti ma manca il sentire quello che ti stanno dicendo quello che ti stanno raccontando proprio fare esperienza e quello è trasformazione fuoco e creatività secondo me e poi tu dici non so se riesco a trasmettere allora io voglio dire agli ascoltatori che sono stata io testimone da questa pizza con questi ragazzi una tavolata di 20 ragazzi ero la zia o la nonna non so come definirmi ed è proprio così ridevano scherzavano si prendevano in giro tra di loro e poi tra l'altro tu che lì parlavi con Luca di Heidegger e delle cose che non ci posso credere e poi quando ho chiesto l'età ho detto mamma mia non ci posso credere ma in mezzo in mezzo alla tavolata a riuscire a capire che cosa stava succedendo da un punto di vista anche filosofico spirituale quindi e questo è grandioso quindi io posso testimoniare caro Davide bene sentiamoci ancora un'altra ultima canzone poi torniamo per i saluti ti faccio ancora qualche altra domanda restate con noi Antenna 1 la radio un momento per darsi pace con Andrea Granato alziamo le vibrazioni alle 20.45 niente meno che Marco Guzzi assieme al dottor Raffaele Fiore per parlare proprio della cura cura dell'anima della guarigione interiore quindi sarà un evento importantissimo l'ingresso è proprio libero gratuito fino ad esaurimento posti quindi mi raccomando andate presto bene carissimo Andrea stiamo arrivando proprio già alla fine della nostra bellissima chiacchierata spero che tu voglia anche tornare un'altra volta in questa radio e quindi l'ultima domanda che ti faccio come vedi il futuro io ti sento ottimista ecco volevo sentirlo da te come ti senti come lo vedi il futuro ma guarda Sonia secondo me diciamo che la complessità di questo tempo è al di là di ogni opposizione fra ottimismo e pessimismo che secondo me sono comunque delle categorie diciamo insufficienti se prese da sole cioè per molti versi come sappiamo questo tempo è un disastro per altri versi è come dire presenta delle caratteristiche di comunque seppur ancora celate delle caratteristiche direi di germi germi che non sono ancora nati che possono però prendere parola allora io quello che sento è quello che sento che mi viene chiesto in questo momento in questi ultimi anni è di restare aperto comunque alla speranza la speranza non è come dire una parola come dire un moralismo spero che vada bene non è questo la speranza per me è questo atteggiamento di apertura un atteggiamento esistenziale una postura una postura proprio fisica fisica e interiore insieme di apertura verso il reale qualunque esso sia comunque esso si dia e questa apertura cosa mi dice cosa mi chiede mi chiede comunque di sperare che tutto è possibile ogni cosa è possibile che veramente niente è impossibile in questo testo niente è impossibile ma questo è un fatto come dire ontologico io lo devo sentire nelle cose che le cose sono aperte che le cose sono aperte io per esempio molte volte ma ciascuno di noi credo questo è giusto per rientrare un po' nel più nel quotidiano però ciascuno di noi magari si sveglia una mattina un po' storto e dice ah oggi andrà tutto male quindi inizia già con questa struttura la sua giornata allora cosa è importante è importante è bello sentirsi contraddetti dalla giornata cioè noi pensavamo che andava tutto male e però siamo stati poi come molte volte accade molte volte non accade però spesso capita che nel corso della giornata veniamo contraddetti no? quindi c'è un'apertura delle cose questo sto dicendo che supera anche il nostro pretendere che le cose vadano tutto bene o tutto male io direi che per me è importante restare in questa in questa diciamo in questo asse proprio un asse io lo sento proprio come un asse le cose quindi non soltanto le piccole cose delle nostre giornate della nostra vita quotidiana ma io direi anche il corso misterioso del tempo rimane aperto rimane biforcato rimane biforcato quindi io se dovessi credere veramente che tutto cioè come dire tutto quello che vediamo se dovessi vedere soltanto l'aspetto come dire oscuro di tenebra di questo tempo quindi le guerre quindi la pandemia quindi tutto quello che sta uscendo e che invece era stato coperto rispetto alla pandemia e c'è tutto questo e se io non vedessi uscita quindi vedessi capito non vedere uscita vuol dire che tu senti il momento presente come chiuso nelle sue possibilità ultime chiaro cioè senti il presente come impossibile ora se io sentissi questo ma io non sarei certo a parlare qui io me ne sarei andato su un monte appunto dal momento che sono un tipetto radicale come se sia un po' capito io me ne sarei andato su un monte sul monte Ados come dice Marco Guzzi ma mi sarei chiuso da qualche parte perché se questo mondo sta andando alla malora ma allora che ci sto a fare ancora qua come dice anche nell'apocalisse dei vangeli prendo le mie cose e me ne scappo e come si dice a Roma non so se si usa pure a Torino mi do si dice a Torino mi do mi do nel senso mi do vuol dire me ne vado e chi si è visto si è visto mentre io sento che mi viene chiesto di restare qui nel tempo e di sentire di imparare ad ascoltare il tempo come aperto a delle possibilità che ci trascendono quindi io se tu mi dici lo senti pessimista o è ottimista io ti dico non lo so e voglio rimanere in questo non sapere perché questo non sapere è per me il luogo più areato il luogo dove respiro il mio abito è naturale quindi io credo che questo è un po' lo stato in cui c'è una non risposta io ti rispondo non rispondendoti però non posso fare altrimenti no Andrea io sono veramente senza parole perché non so neanche cosa rispondere io a te perché parli Andrea Granato io ricordo c'ha 21 anni è studente di filosofia e dice delle cose incredibili veramente grazie Andrea grazie spero che possa tornare un'altra volta a fare un'altra parliamo magari di qualcosa di specifico dei tuoi studi quindi io ti ringrazio veramente con tutto il cuore per il tuo tempo che è vericco che è prezioso e ce l'hai donato in questo momento e ti auguro tutto il bene da qui all'eternità come dico a tutti e ricordo ai nostri ascoltatori che il prossimo giovedì sarà con noi Giorgia Cecconi che è una concertista è la pianista ormai di Darsi Pace e ci parlerà anche di cose molto interessanti perché che cosa fa proprio la musica al nostro sistema nervoso sta facendo tutto uno studio su questo quindi sarà una una chiacchierata molto interessante bene carissimi il nostro tempo è terminato un momento per Darsi Pace finisce qua in un certo senso ma poi continuiamo a Darsi Pace in tutta la giornata fino alla notte va e anche domani fino all'eternità fino all'eternità bravissimo grazie Andrea un abbraccio fortissimo grazie grazie a te Sonia ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao ciao alziamo le vibrazioni